buon pomeriggio da cogoletto parte interna come puoi vedere questa è la stradina interna lì c'è il lungomare qua si arriva si passeggia si va nella stradina interna come puoi vedere qua c'è tantissimi bar localetti qua immediatamente dietro il lungomare lì c'è l'aurelia come puoi vedere qui insomma abbiamo appunto queste vie che sono assolutamente caratteristiche tipiche qua dell'archite dell'urbanistica ligure le trovi ovunque a ponente e a levante sono dei carruggi non troppo stretti in realtà perché comunque ce ne sono anche di ben più stretti anche se quelli più caratteristici si trovano in pratica in altra località ma comunque anche qua diciamo tendono a essere abbastanza caratteristici poi come puoi vedere adesso il tempo sta peggiorando e questi giochi di luce qua nel carrugio diciamo nella via interna determinano delle suggestive ambientazioni scenari qui è sempre abbiamo la via continua e adesso la sto percorrendo tutto perché sto andando a piedi fino da renzano dove ho parcheggiata la macchina quindi farò adesso con tutto un tratto a mare diciamo quelle gallerie che ho fatto vedere prima tre o quattro chilometri a piedi e arriverò ad renzano a piedi ovviamente qui è tutto a cogoletto è tutto l'interno altri particolari il le stradine che portano diciamo sulla statale littoranea sull'aurelia e qua dietro c'è sempre il super carrugio diciamo pedonabile che adesso non è molto frequentato tempo in peggioramento ma di solito qui poi sono tutti abbastanza frequentati soprattutto col bel tempo